Allora, come mai qui a Hong Kong? Comando una nave da cruciera con un bell'albero maestro. Il mio amichetto qui è un agente di viaggio con i controfiocchi. Non mi sembri il comandante di una nave. Vuoi sapere la verità? Sì. Siamo agenti segreti. Questa vita è una ficata, amico. Chi guardavi al computer? La foto della mia ragazza. Ah, anch'io. Vuoi vederla? Vai, altre. Uno, due, tre. Lei è... Lauren Scott. Esco con due uomini contemporaneamente. Finirò l'inferno. Dai, mettiti in gioco. Devi essere flessibile. Sai che c'è? Vacci tu. D'altronde se mi conoscesse non ci sarebbe partita. Scusa, spiegati meglio. No, non devi ritirarti a causa mia. Signori, questa operazione è top secret. Dovete pedinare l'agente Anson. È stata una serata perfetta. Vai con la pioggia. È un'operazione delicata. Servono misure profilattiche. Torno subito. È uno scherzo. Non mi ritrovo. Ti lamenti. Io devo fare sezza con lo stesso uomo ogni mercoledì sera. Mi serve una scadenza. È che vinca il migliore. Quindi sarò io. Il meccanismo di innesco si è incastrato nel mio... Oh, scusa!